Mercoledì 8 marzo, in occasione della giornata mondiale della donna, la sovrintendenza capitolina propone quattro appuntamenti gratuiti nei musei di Roma, con interprete Liss, condotti dai funzionari storici dell'arte e archeologi alla scoperta di affascinanti figure femminili del passato. La traduzione in lingua dei segni italiana Liss è realizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Direzione Servizi alla Persona e della Cooperativa Sociale Onlus Segni di Integrazione Lazio. Prenotazione allo 060608 tutti i giorni dalle 9 alle 19. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS, Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale, collegandosi al sito cgs.visit.com dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Di seguito gli appuntamenti. Grazie a tutti.